E in questi giorni siamo stati a Lampedusa con il presidio Wacom per la libertà dei migranti che sono tenuti rinchiusi come veri e propri prigionieri ad alimentare la fabbrica della clandestinità e finire in un circolo vizioso in cui restano invischiati. Non viene loro negato qualsiasi diritto, privati del diritto di scegliere dove andare, privati persino di sapere la verità, aspettano da ore le barche che a causa delle condizioni climatiche non arrivano ma continuano a tenerli lì, continuano a dirgli di stare tranquilli. Gli ultimi aggiornamenti di quest'oggi dicono che un gruppo di migranti ha incendiato un furgone abbandonato e sono intervenute le forze dell'ordine e allora noi diciamo che siamo con loro perché siamo per la libera circolazione in Europa, per il diritto d'asilo europeo e contro la detenzione di questi esseri umani che hanno commesso, hanno la sola colpa di non possedere un documento.